Ciao agli su gruppi in date, oggi sono qui di nuovo in un altro video dei virtuali che me l'avete chiesto in tanti e abbiamo raggiunto i 4.000 like Purtroppo oggi Q's non c'è in questo video perché è partito per Milano e andiamo avanti col video, dai Riprendi, riprendi, Antonio, riprendi Vai, sto a riprendere Qua, 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 verso il monitor Allora, ci giochiamo, X2 Fiorentina, Sassuolo vittoria, sto facendo a caso ragazzi Sassuolo, nulla mi si Ah, l'ho messo Ah, bello della diretta Napoli Ragazzi, io vi faccio tutto a caso, eh, sbarate a caso, ci giochiamo 5 euro A caso però, era 78 euro, vediamo se li prendiamo Facciamo vedere che ci siamo giocati, allora, X2 Fiorentina, uno Sassuolo, uno Lazio e due Napoli, vai Allora, eccoci qua, stai iniziando l'eventuale Vai, è iniziato, è iniziato Iniziato, vediamo se vinciamo Sassuolo, non è iniziato No, bisogna parlare perché il cazzo serve da te Ah, io speriamo che vinciamo una vittoria ogni tanto, ci sta, dai Affetto, perché proprio la maglietta di Osimena? Che la cosa si bella è la mia vita, ragazzi, stiamo andando bene? Non voglio parlare Ragazzi, abbiamo preso ragazzi, sì, 78 euro ragazzi Non c'è fuse ragazzi, non c'è fuse ragazzi, non c'è fuse Allora, lui la peste E lui la peste ragazzi, questo è il tuo, andò La roba, aspetta Dopo te li do, dopo te li do Ragazzi, abbiamo vinto 78 euro Senza fuse ragazzi Senza fuse, attenzione E ora ci giochiamo un altro virtuale Sempre con 5 euro ragazzi No, sforiamo, no, sforiamo No, sforiamo Allora, a casa Un gol del Torino Fuori casa Un gol dell'Inter Che il video d'amico il mio ti fa Inter Vabbè, prima è stato buono che ha perso comunque 5 euro sopra Non prendiamo 8 euro Cioè, mettevo altre squadre Quello della direzione Per far vedere che noi non... Salernitana Sempre 5 euro sopra Vabbè ragazzi, 30 euro è fatto bene, dai 5 euro è fatto bene Tanto è solo golle Facciamo vedere i ragazzi che ci siamo giocati Vai Il gol del Torino Uno della Salernitana Aspetta, non metti a fuoco, vabbè L'altro della Roma E ospite Milan Vediamo Diciamo, anche questa ragazzi Fius non viene a fare i video più con me Già la Salernitana la sto prendendo Il gol del Torino l'ho preso Il Milan l'ho preso Ragazzi, non ci credo Ragazzi, non ci credo Non ci sto a credere La Roma l'ho presa E non ci sono la Salernitana E non ci sono la Salernitana E ragazzi, ho preso la Borretta Salernitana sta vincendo Sta vincendo ragazzi Io non ci credo ragazzi Non ci sto a credere Vabbè, 2-2, dai Potrassi pure che fa un altro gol La Salernitana La Roma l'ho presa Il Milan l'ho preso Il Torino l'ho preso Basta che dice solo la Salernitana Ragazzi, ha giudicato Ha perso ragazzi Ragazzi, non si può vincere sempre Giochiamoci l'ultimo virtuale con i 3 euro Con il sorrisone, vero? Esatto Con il sorrisone Allora Giochiamoci Anzi, facciamo una cosa Vai, Antonio, fai un pronostico Milan-Roma Sono bell'X Bell'X Bell'X? Convinto, vai, convinto Però tiene solo 3 euro Allora, io ho fatto un bello Parigi Parigi? Beh, adesso voglio vedere A quanto ha dei risultati esatti Io me la sento che vinco Ragazzi, ho messo il 2-1 Il 2-1 per la Roma Vediamo come andiamo Ragazzi, sta per iniziare il video Milan-Roma Il 2-1 Secondo per il vincente Ragazzi, azione per il Milan Dai, fai il primo collo Ok, a posto Ok, non deve farlo la Roma No No, no Ma appena non mi è andata a Fuse Game Vabbè, vai, però ci rifaremmo, dai Ragazzi Io vi lascio In questo video Però prima di lasciarvi Volevo dirvi soltanto una cosa Abbiamo avuto una vittoria Senza Fuse Senza Carlo Ragazzi, da Videomaker oggi Come mio ospite speciale C'è Antonio Lavecchia Viene a noi Ecco, a mia ex Un grande ragazzo Un grande ragazzo Un grande ragazzo Lavoratore Come me Ovvio Come Fuse Siamo E la Fuse Non porta appena Non porta appena Non porta appena Ragazzi Oggi voglio premiare Antonio Che è stato qui Antonio Degano 20 euro Grazie 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 Anche un po' di scena Questi sono i tuoi Grazie veramente Che oggi mi hai fatto fare il video E ci vediamo al prossimo Ciao Ciao ragazzi E grazie Ciao ragazzi Ciao ragazzi Sono Vuclidate Oggi sono qui Un nuovo video In cui faremo Il pronostico Di tutta la serie A Di tutto il Il weekend Il weekend Ok ragazzi Eccoci qua Tutto il weekend Sassuolo Fiorentina Ragazzi Io mi giocherei La Fiorentina Che l'ho da 2,60 Ottimo risultato Cioè voglio dire Torino Inter Non voglio far prendere Collera Antonio Che non è presente Mettiamo Over 2,5 3 gol Di papà Poi Un po' di Lazio Mettiamo La Lazio Mai messa Ragazzi Fionese Fiorentina Salernitana Scusatemi ragazzi Ma che è stamattina Over 1,5 Napoli Ovviamente Monza Atalanta Vabbè ragazzi Non c'è Che dire Lata Atalanta Bologna Lecce Bologna Ragazzi Stanno mettendo Tutte le vittorie Milan Elas Verona Over 2,5 Chi le fa Roma Voglio fare una pazzaria Va giù Non voglio metterla giù Non voglio metterla L'Udinese Aspido 2,17 Va giù Approfittiamone Per 2,17 Ragazzi Ci state Dai Ho fatto Tutto il weekend Ci siamo Giocati La bolletta Di tutto il weekend Va giù 1,7 Ma io non mi faccio vedere Per un anno Un altro po' Abbiamo messo Sassuolo Fiorentina Vittoria Per la Fiorentina Torino Inter Over 2,5 3 gol Chi le fa Fà Fremone Salernitano Over 1,5 Empoli Lazio Vittoria La Lazio Napoli Atalanta Bologna Milan 3 gol Chi le fa Fà Roma Eudinese Va giù C'è una pazzaria Assurda Che poi C'è un 4 euro Va giù Che C'è un 5,78 euro Ragazzi Io vi saluto Vediamo come va a finire E ci vediamo nel prossimo video Sui virtuali Aggiungiamo i 6.000 like Non voglio raggiungere più di 4.000 Ragazzi E voglio arrivare a 20.000 iscritti Per favore Grazie Ragazzi Vi saluto Ciao 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 Ciao